Lanciano Battecchietti nel primo memorial di Slow Pitch sul diamante di gioco Luigi Minucci, iniziativa nata per ricordare Luigi e Angelo Minucci, due uomini di sport che hanno dato tanto a questa disciplina. Presente al cerimoniale di premiazione il sindaco Carlo Masci, ecco intanto in una bella struttura, una delettante, fiore all'occhiello della città di Pescara. Sì, devo dire che Pescara ha degli impianti sportivi all'avanguardia dove si possono esercitare tanti sport e anche il baseball che non è comune, però questo impianto è dedicato a Luigi Minucci perché è stato un antesignano del baseball, l'ha portato a Pescara, era un appassionato, purtroppo ci ha lasciato prematuramente, così come Angelo Minucci ci ha lasciato prematuramente ed è giusto ricordarli entrambi. Io sono venuto perché voglio partecipare a tutte le iniziative che si organizzano sul nostro territorio, quelle sportive, quelle che aggregano. Vedo tanti giovani, tante persone che sono interessate a questo sport e poi anche per ricordare Luigi e Angelo che conoscevo personalmente, erano amici miei e quindi è giusto farlo. Che idea ha di questa disciplina sportiva che in Abruzzo vanta antiche e gloriose tradizioni, il baseball? Non la conosco bene perché essendo italiano sono appassionato del calcio, della pallavolo, del basket quindi il baseball è una disciplina tutta americana, però vedo che ci sono molti atleti italiani che partecipano a questo sport. Devo dire che mi piace anche perché adesso lo sto seguendo e mi sembra che sia anche una disciplina abbastanza semplice. L'importante è conoscere i meccanismi poi c'è sempre questa mazza da baseball da poter utilizzare perché alla fine impara anche ad avere occhio. Pescara d'altra parte ha ospitato anche i raduni della Nazionale Italiana di Baseball Femminile, vale a dire il softball e naturalmente con questa struttura si può candidare per tornare ad ospitare la Nazionale. Sì, Pescara viene scelta spesso per competizioni nazionali e internazionali. Perché? Perché ha degli impianti sportivi che sono ben organizzati, è una città che si trova al centro dell'Italia, collegata benissimo, è una città accogliente, effervescente, fresca, dinamica. Quindi Pescara è l'ideale per organizzare iniziative sportive e noi cerchiamo di promuoverle tutte quante.